Il neosindaco di Ficara Gaetano Artale è già a lavoro. Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale, oltre a eleggere Giuseppe Marchese, presidente del Consiglio, e Giuseppe Campo, vicepresidente, come primo significativo atto ufficiale, ha approvato lo studio sul centro storico, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale del 10 luglio 2015, per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici. In buona sostanza, la regione siciliana, al fine di snellire le procedure necessarie ad eseguire interventi nei centri storici, nel luglio dello scorso anno ha emanato una norma che assegnava ai comuni siciliani il termine di 240 giorni per l'approvazione di studi di dettaglio sui siti storici di interesse. Il Comune di Ficarra, grazie alla consulenza dei professori Maria e Lefarneti del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, ha redatto attraverso i propri uffici tecnici lo studio del centro storico, che è stato dapprima presentato al pubblico e quindi sottoposto, in sede di conferenza di servizi, all'esame dell'Ufficio del Genio Civile e della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina. Ottenuti i pareri favorevoli di entrambi gli enti, lo studio è stato pubblicato per 30 giorni e dunque è stato portato all'attenzione del civico consesso, che appunto ieri sera lo ha approvato. Si tratta del primo studio sul centro storico approvato nella provincia di Messina, che prevede, tra l'altro, interventi di lizi non casuali, ma inquadrati in una visione unitaria e coerente con le esigenze di tutela di un contesto urbano di particolare pregio architettonico.